buongiorno questa è la schermata del mio telefono made from my doom eccolo qua le icone come potete vedere sono in stile flame cioè il telefono dell'impostazione come ti fa impostare l'icona dell'applicazione in stile fine ma c'è lo stile del telefono le applicazioni in tempo sono minimali però funzionano bene il programma con questo registrante si chiama accetta spingere corda che permette sicuramente uno dei migliori riesce a registrare ben sia quello che c'è sulla scherma sia nella voce esterna quindi la mia voce come state ascoltando adesso le applicazioni che c'è sul telefono sono sceghe per la musica viva video facciate twitter instagram facebook non hanno molte applicazioni in quanto con il telefono 16 gb di memoria però non è che si possono mettere questa una applicazione altrimenti poi probabilmente però diciamo che io ho quasi da memoria prima l'icona delle notifiche quella che posso anche prima la registrazione da questa costantino stop